Ciao a tutti, bentornati sulla pagina Facebook che continua a crescere e bentornati anche sul canale YouTube, qui siamo quasi 160.000 iscritti, per cui grazie e continuate ad iscrivervi. Anche io, così come centinaia di migliaia di italiani, ho visto l'intervento in Parlamento di Piero Fassino, deputato del Partito Democratico, un intervento durante il quale ha sostanzialmente difeso lo stipendio dei parlamentari e agitando il cedolino di luglio, parlando di una indennità netta di 4.718 Euro, ha voluto ribadire il fatto che 4.718 Euro netti non debbano essere considerati uno stipendio d'oro. Ascoltate esattamente quel che ha detto Fassino. Ora, io ho qui con me il cedolino del luglio 2023 che tutti avete ricevuto, da cui risulta che l'indennità lorda parlamentare è 10.435 Euro, da cui giustamente, e sottolineo giustamente, vengono defalcati il prelievo IRPEF, l'assistenza sanitaria, la previdenza dei deputati. Fatti tutti questi giusti prelievi, l'indennità netta di qualsiasi deputato è 4.718 Euro al mese. L'unica cosa che chiederei a tutti i colleghi, ed ora in avanti, ogni qualvolta viene sentito dire, e non diciamolo noi per primi, che i deputati godono di stipendi d'oro, non è vero, perché 4.718 Euro al mese sono una buona indennità, e va bene così, ma non sono degli stipendi d'oro. Sono stato deputato della Repubblica per 5 anni, per cui conosco determinate voci e determinati benefit, anche se alcuni li avevo rimossi perché all'epoca li rifiutai. Ad ogni modo credo sia opportuno, da parte nostra, conoscere per filo e per segno tutto quel che entra nelle tasche dei parlamentari, perché i parlamentari, deputati e senatori, sono i dipendenti del popolo italiano. Tutti noi, tutte le persone che pagano le tasse, sono i datori di lavoro dei parlamentari, deputati della Repubblica e senatori, evidente. Per cui credo sia non soltanto un nostro delitto, ma un dovere conoscere tutte le voci. Poi volevo anche cercare di farvi capire, essendoci stato, che il vizio scuro di quel palazzo, dei palazzi istituzionali, è proprio il distacco della realtà, che poi per quanto mi riguarda è anche l'anticamera della corruzione e delle trasgressioni. Parliamo così di trasgressioni in generale, cioè il distacco della realtà. Quando uno reputa che quel che guadagna sia giusto, sia quasi un diritto, quando inizia a sentirsi migliore degli altri, quando inizia a percepire determinate problematiche che riguardano lui, deputato o senatore, più importanti rispetto alle problematiche che dovrebbe affrontare, appunto, che sono le problematiche dei cittadini, ovvero dei datori di lavoro dei parlamentari, ecco, quello è il momento drammato in cui, per me, per la mia esperienza, guardando una serie di persone entrate in Parlamento anche con ottime intenzioni e che via via si sono trasformate in oggetti di arredamento di Montecitorio o del Senato, ho capito, appunto, che quella è l'anticamera, poi, della fine della politica. Quando tu inizi a difendere il tuo posto di lavoro e pensi che quello sia un tuo posto di lavoro. Per questo, per me, la politica professionista è pericolosa. Ad ogni modo, iniziamo a parlare, appunto, di tutto quel che entra nelle tasche di un deputato, perché i senatori guadagnano un po' di più, cioè queste voci che vi presento adesso sono leggermente superiori per quel che concerne i senatori. Fassino, appunto, parlava dell'indennità. Noi guadagniamo 4.718 euro netti, dunque non è uno stipendio d'oro, a parte che è un signor stipendio, forse non d'oro, però quasi d'oro, però omette tante cose, per me in maniera grave. Partiamo dal presupposto che l'indennità media netta che entra nelle tasche deputate della Repubblica, di norma è 5.000, facciamo una media è 5.000 euro al mese, quindi non 4.718 ma 5.000, perché le addizionali IRPEF comunali e regionali non si pagano tutti i mesi, dunque facendo una media un deputato della Repubblica si intasca 5.000 euro netti come indennità, cioè tutto quello che gli entra. Evidentemente l'ordi sono molti di più, 10.400 circa, e a questi 10.400 vengono scalate, vengono prelevate appunto delle cifre. Parliamo di una cifra che è il fondo di solidarietà, che poi si trasforma in TFR, quindi dopo 5 anni di legislatura un deputato della Repubblica percepisce 43.000 euro di TFR, quindi ai 5.000 euro netti di indennità vanno aggiunti anche i denari che entreranno dopo 5 anni come TFR, come si chiama assegno di fine mandato. Non so quante persone in Italia lavorano 5 anni e percepiscono dopo 5 anni 43.000 euro diciamo di buona uscita di TFR, di assegno di fine mandato. Poi viene prelevata chiaramente una cifra, sempre ai 10.000 euro lordi, che serve a pagare l'assicurazione sanitaria, un'assicurazione molto buona, quindi vai dal dentista, paga l'assicurazione sanitaria, quindi non soltanto per cose diciamo gravissime, una normale assicurazione sanitaria è particolarmente buona. Comunque è un benefit che hanno i parlamentari oltre a questi 5.000 euro di indennità netta. E poi ovviamente viene anche prelevata una parte relativa alla previdenza appunto dei parlamentari. La pensione che arriverà ai parlamentari, sappiate che un parlamentare a 65 anni, se ha fatto una sola legislatura, anzi 4 anni, 6 mesi, 1 giorno in legislatura, percepirà circa 1.000 euro di pensione. 1.000 euro a 65 anni per 5 anni di lavoro, ovviamente è contributiva, però 5 anni di lavoro. Quanti sono i lavoratori che hanno la possibilità di percepire 1.000 euro di pensione a 65 anni dopo aver lavorato 5 anni? Dunque, indennità, fassino, sbandiere al cedolino, 1.000 e 4.700 euro non è uno stipendio d'oro. Oh, ma non sono quelli i soldi che entrano in parlamentare, perché alla fine lo stipendio deve essere considerato appunto in relazione a tutto quel che entra nelle tasche di un parlamentare. Quindi a questi 5.000 euro netti, medi, al mese, per 5 anni a un parlamentare, e non 4.718, vanno aggiunte altre voci, altri denari che entrano. La diaria. La diaria teoricamente serve a permettere al parlamentare di vivere a Roma, dignitosamente. Quindi affitto, hotel, casa e ovviamente alimentazione. La diaria per un parlamentare della Repubblica ammonta 3.737 euro. 5.000 euro netti di indennità più 3.737 euro per vivere a Roma al mese. Per me è eccessiva, no? Anche perché sappiate che notoriamente il lunedì e il venerdì in Parlamento non c'è quasi mai nessuno, perché vi sono discussioni generali il lunedì e il venerdì, oppure interpellanze urgenti, eccetera. Non si vota. È rarissimo, rarissimo. Per cui tenete presente che normalmente in Parlamento si vota dal martedì dopo pranzo fino al giovedì sera. Alle volte anche soltanto dal martedì dopo pranzo fino a mercoledì sera. Dunque ci sono tantissimi, direi la maggior parte dei parlamentari, che arriva a Roma il martedì all'ora di pranzo, si ferma a Roma martedì sera, mercoledì sera, e giovedì prende un aereo o un treno, ci sono aerei ovviamente veloci, anche treni molto veloci, per tornare a casa. Dunque molti parlamentari restano a Roma, pur percependo 3.737 euro, due notti a settimana, martedì e mercoledì no. Tant'è che molti neanche si prendono la casa, ma si prendono un bed and breakfast, prendi un bed and breakfast più che dignitoso con 80-90 euro al giorno, più che dignitoso, per cui fate 80-90 euro al giorno, 180 euro a settimana, fate per 4 e capite che cifra abbiamo, no? Decisamente inferiore ai 3.737 euro che arrivano, che entrano e sentassi. Poi, oltre appunto all'indennità, la diaria, vi sono le spese di esercizio del mandato, collaboratori, organizzazione degli eventi, eccetera, eccetera. Sono altri denari che la Camera fa arrivare, appunto, nelle tasche dei parlamentari. Parliamo esattamente di 3.690 euro al mese. Di questi 3.690 euro al mese il parlamentare è obbligato a rendicontarne soltanto la metà, 1.845, quindi quelli non si li può tenere senza averli spesi. Ci sono parlamentari, appunto, che spendono questi 1.845 euro per il collaboratore e intascono l'altra metà, 1.845 euro. Quindi, ricapitoliamo, indennità diaria e 1.845 euro che possono, appunto, percepire senza rendicontare le spese di esercizio del mandato. Gli altri 1.845 euro sono obbligati a spenderli o quantomeno a rendicontarli. Se non li rendicontano, appunto, non vengono garantiti. Ma non è finita qui. Ah, in tutto ci sto parlando di denari, per poi ci sono anche benefit dei quali parlerò. Esiste anche per il parlamentare un rimborso forfettario per le spese accessorie di viaggio. Sappiate già che i parlamentari della Repubblica hanno una tessera che consente loro di prendere qualsiasi treno, qualsiasi aereo e nave nel territorio nazionale, sempre. Anche business o prima classe. Sempre. E non c'è nessun controllo dalla parte della Camera. Quindi non è l'aereo per andare da Messino, da Milano, a Roma e andare in Parlamento. No, tranquillamente. Un parlamentare vuole farsi tutti i weekend in giro con la famiglia o per fare quel che vuole, un weekend in mare, a montagna, quando vuole, può utilizzare la tessera del tesserino da parlamentare e prende qualsiasi treno, aereo o nave, gratis, anche in prima classe. E non vi è nessun controllo. Ma oltre a questo, entrano nelle tasche dei parlamentari dei denari sotto forma di rimborso spese accessori di viaggio. E parliamo di 3.323 euro ogni tre mesi, quindi non al mese, ogni tre mesi, a tutti coloro, tutti i parlamentari che vivono, parliamo dei deputati, scusate, vi dicevo già che il senatore è tutto leggermente anche superiore, ai deputati che vivono a distanza inferiore di 100 km da un aeroporto, dal primo aeroporto. Quindi se io vivo a meno di 100 km da un aeroporto, avrò diritto a 3.323 euro in più ogni tre mesi, dunque più di 1.000 euro al mese, come rimborso spese accessori di viaggio. Se invece io vivo a più di 100 km di distanza dal primo aeroporto, i denari diventano 3.935 euro al mese, scusate, ogni tre mesi, quindi 4.000 euro ogni tre mesi, più di 1.300 euro al mese. Vanno sommati evidentemente a tutto quel che entra nelle tasche dei parlamentari. Parliamo dei benefit, io vi ho parlato prima di una tessera, che consente di viaggiare dovunque, ma esistono anche degli altri benefit. Sapete che esiste anche un benefit per gli occhiali? C'è stata qualche mese fa la fila, tutti che vogliono prendere, 300 euro. Sarà tanto? Sono 300 euro per degli occhiali e anche 5.000 euro per la registratura, quindi non all'anno. 5.000 euro per comprarsi un pc, un tablet, eccetera, eccetera. Andate nei siti dei principali produttori di computer, i migliori, vedete, i prodotti migliori, ultimi, non lo so, a meno che non sei un super programmatore, un computer non buono, ottimo, ti costa al massimo 2.500 euro, al massimo, per l'uso che ne fa un parlamentare della Repubblica, non è certo un programmatore. Credo di aver detto tutte, forse mi sono addirittura dimenticato qualche altra... Ah, ecco qua, scusate. Ci sono anche 1.200 euro all'anno come rimborso per le spese telefoniche. 1.200 euro all'anno, dunque 100 euro al mese, che vanno sommati appunto a indenità, diari, la metà delle spese di esercizio del mandato, i denari che entrano come rimborso, spese, accessori di viaggio, che non devi rendi contare e te li metti in tasca, perché chi spende ogni tre mesi 3.323 euro per raggiungere l'aeroporto da casa sua e il Parlamento appunto dell'aeroporto, chi spende questi soldi? Ovviamente nessuno, perché sono cifre assurde, ecco, oltre a questo vanno aggiunti 100 euro al mese, 1.200 euro ogni anno per le spese telefoniche. Andate a qualsiasi sito, team, vodafone, eccetera, ilia, io so ilia, e andate a vedervi le massime offerte per privati cittadini, non per aziende appunto garantite da queste imprese. Quanto si paga al massimo? Io credo team 14,90 euro al mese, ma quella proprio l'offerta massima per le spese telefoniche. Qual è il parlamentare che oggi per telefonare anche all'estero, anche per ragioni di lavoro, non utilizza, non lo so, Zoom, non utilizza WhatsApp o Telegram? Chi è il parlamentare che fa ancora il codice che ti dà la camera per fare le telefonate intercontinentali all'interno dei telefoni che ci sono disseminati a Montecitorio, inserisce un codice e chiama New York, Montevideo o Brasilia con un codice? Nessuno, no? Si utilizzano evidentemente strumenti gratuiti collegati appunto, correlati ad internet. Però 1.200 euro all'anno, 100 euro al mese, vengono comunque garantiti al parlamentare. Se facciamo una somma, non sono i 4.700 euro di cui parla Fassino, ma parliamo di 5.000, più 3.700, più 1.845, più 1.000 di rimborsi appunto, e sono anche andato per difetto, anzi più 1.100 giustamente, per rimborsi appunto di spese accessori di viaggio, più i 100 euro di spese telefoniche al mese, arriviamo ad una cifra di 11.745 euro al mese. Netti 11.745 euro al mese che entrano. Ma evidentemente, ah ma è la diaria, ma perché? Le persone normali con lo stipendio non si pagano anche l'affitto e quel che mangiano? Le persone normali, che magari ci spagano pure il cellulare, ci spagano ovviamente i viaggi che devono fare i treni, gli aerei, le persone normali. Invece no, il parlamentare percepisce 11.745 euro e non quel che ha detto Fassino, 4.718 euro. Questo non è un stipendio d'oro, è un stipendio di platino. Quante sono le persone in Italia, la puntista della percentuale che appunto, io non sono contro la ricchezza, per l'amor di Dio, infatti arriva questo discorso, guadagni bene, fai soldi e ci paghi le tasse, bravo, nessun problema, io non sono contro la ricchezza. Però il parlamentare della Repubblica ha un ruolo molto delicato, quello di tentare di comprendere le esigenze della cittadinanza e trovare delle soluzioni. Io reputo che degli stipendi eccessivi, più tutta una serie anche di meccanismi che succedono a Montecitorio, ai quali ho assistito, sono palazzi costruiti per farti quasi dimenticare, in un certo senso, la realtà dalla quale provieni e iniziare a farti camminare al di sopra degli altri. Palazzi e dinamiche che ti fanno credere che tu sia migliore degli altri, perché scrivi un comunicato che ti viene pubblicato, perché ti chiamano onorevole della Repubblica, perché vi sono tutta una serie di servizi, di situazioni che ti rendono la vita facile, molto facile. Alzi il telefono e ti viene fatta una ricetta medica che ti viene consegnata all'interno della Camera mentre stai votando, tante altre cose, tanti tanti benefit che ti rendono una vita estremamente facile e questo, e l'avere una vita molto facile spesso ti fa dimenticare la realtà e come vi dicevo il distacco della realtà è il vizio scuro. Nel momento in cui Fassino viene mosso dal desiderio di prendere la parola in aula, di chiedere appunto la parola, di fare un intervento in difesa in un certo senso, non ha chiesto più soldi, però in difesa dello stipendio del parlamentare quasi incavolandosi quando viene considerato uno stipendio d'oro perché non lo è. È evidente che abbia già subito il distacco della realtà, perché ha quel desiderio di difendere quel che percepisce e di tentare di mostrare al mondo guardate che non ho stipendio d'oro, basta con questo populismo, posto che per me il populista non è un insulto. Comunque è questo, e questo è già sintomo del distacco della realtà. Per me è finito, un politico così è finito, perché non avrà mai a cuore veramente determinate esigenze, perché non le comprende più. Poi può fare l'amico del popolo, si può fare i selfie nella festa dell'unità mentre arrostisce le salamelle, può essere fotografato in un discount, quello che volete. Ma il distacco già c'è stato, altrimenti non fai quell'intervento. E reputo che percepire troppi denari, se sei un parlamentare, possa coincidere con un maggiore rischio appunto di distacco della realtà. Sono cosciente che non dimentico mai quanti soldi sono stati buttati in Afghanistan, quasi 10 miliardi di euro, poi i loro signori parlano gli sprechi di Radio Cittadinanza per una guerra persa. Quindi parliamo di cifre ampiamente superiori a quelle appunto che si riferiscono a tutti gli stipendi parlamentari. Però il problema per me nel guadagnare troppo, neppure comprendere che si sta guadagnando troppo, e vi ho dato tutta una serie di elementi, appunto è non avere più la lucidità per comprendere le esigenze dei cittadini e quindi neanche più. Avere quella forza, quel desiderio, anche quell'ardore nel tentare di trovare soluzioni o per combattere affinché possano essere trovate delle soluzioni per risolvere dei problemi o affrontare appunto delle esigenze, dei bisogni, delle necessità dei cittadini. Tutto questo in un momento in cui fare la spesa è proibitivo, la benzina è di uno schizzata alle stelle, tanto che gli frega il parlamentare. C'ha i viaggi in treno, da centro città a centro città o in aereo, e ha questi rimborsi come spese accessori di viaggio che sono incredibilmente superiori alle esigenze, ma parliamo proprio di una roba scandalosa. Allora perché la Camera non interviene su queste robe qui? Perché continua a pagare le spese telefoniche quando bastano 15 euro al mese per pagarsi il proprio telefono? Potrebbero pure pagare appunto tutto il resto che intascano, però gli vuole essere pagato dalla Camera? Perché non 15 euro al mese al posto di 100? Perché non si fa un conteggio normale rispetto a quel che è possibile spendere dall'aeroporto alla propria casa o dall'aeroporto alla Camera dei Deputati e non si danno dei rimborsi accettabili, posto che per me si potrebbero evitare proprio questi tipi di rimborsi. Santa pazienza, le persone normali che arrivano nel loro posto di lavoro con un treno e un aereo, come ci vanno? Chi paga notoriamente? Si pagano da soli appunto gli spostamenti. Però, e concludo, da un lato è importante capire veramente tutte le voci e conoscere a meno a dito tutte le voci appunto che compongono uno stipendio di un parlamentare, TFR, la pensione che arriva, perché sono soldi nostri che paghiamo con le nostre tasse ai parlamentari, li paghiamo gli stipendi. Da un altro lato è opportuno comprendere che tagliarsi gli stipendi per i parlamentari e oggi si fa molto meno rispetto a prima. Molto meno. Anche chi lo fa lo fa molto meno in maniera incredibilmente minora come avveniva nei primi cinque anni, diciamo, da 2013 al 2018. E tutto questo per me ha a che fare tagliarsi lo stipendio con un, diciamo, con quello che io appunto ho sempre considerato un'aderenza alla realtà, una conoscenza della realtà dei bisogni. E questo per me aumenta la capacità politica, perché aumenta la comprensione, l'empatia, chiamiamolo in questo modo, l'empatia nei confronti appunto delle esigenze dei cittadini. Spero di avervi fornito degli elementi, qua me l'ho segnato tutto, anche la pensione ve l'ho detta. Perfetto. Condividete questo video e ricordate appunto che gli stipendi parlamentari sono decisamente, decisamente, oltre che scandalosi, maggiori di quel che ha dichiarato il deputato della Repubblica, Piero Fassino, deputato del Partito Democratico, ex Partito Comunista Italiano. Ciao a tutti.